In prossimità degli incontri di preparazione per catechisti, in programma per il mese di settembre, abbiamo intervistato il neodirettore dell'Ufficio Catechistico Diocesano, Don Giuseppe Cavoli, per avere maggiori informazioni. Anche quest'anno l'Ufficio Catechistico Diocesano propone ai catechisti in particolare, ma anche a tutti gli operatori della pastorale, tre giorni di formazione a livello spirituale e di conoscenza delle metodiche dell'annuncio. Sono tre anni, e questo è il terzo, nel quale l'attenzione è posta sul valore della parola all'interno della catechesi. In questo terzo ciclo di incontri, che si terranno il 16 e 17 di settembre e il 23 di settembre, attorno alle ore 21, per la durata di circa un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, presso il centro pastorale Sito in Via Roma, l'attenzione sarà portata sullo stile della narrazione nella evangelizzazione. Adesso dire di che si tratta in poche parole non è semplice, però è lo stile che Gesù adotta in gran parte in tutto l'annuncio dell'Evangelo. Gesù narra l'evento dell'amore di Dio, della salvezza, della speranza per i piccoli, per i poveri. Gesù rialza chi è nella sofferenza, chi è nel dolore. Chiaramente lo stile della narrazione si colloca all'interno di una catechesi di tipo esperienziale, esperienziale, una catechesi che cerca di essere simbolica ed evocativa, cioè di evocare da parte di chi ascolta le domande fondamentali della vita, alle quali il Signore Gesù dà risposte, le risposte della salvezza, le risposte dell'amore. È un tema quanto mai interessante e anche però piuttosto impegnativo, perché comporta l'acquisizione di parecchie abilità, di vari tipi di attenzione, non si tratta soltanto di raccontare il Vangelo e tantomeno di leggerlo. Nei nostri tempi c'è una sfiducia imperante anche da parte di noi cristiani e cattolici. Certe volte confidiamo nel fatto che basti dire le cose perché producano l'effetto sperato, invece occorre passione, occorre capacità di raccontare la propria fede, anzi la narrazione in sintesi è proprio questo, la parola scende nella mia vita di catechista, diventa storia, e allora io divento capace di raccontare quello che mi ha toccato, quello che mi ha cambiato e al contempo di interpellare il mio ascoltatore perché prenda decisioni e faccia delle scelte. Nel primo giorno si tratterà in maniera teorica ma interessante del tema della narrazione, nel secondo, dati alcuni criteri, si faranno dei tentativi concreti di raccontare, ne vedremo delle belle perché non è così semplice, e nel terzo incontro punteremo più l'attenzione sulla nostra realtà, sul tessuto diocesano della catechesi per raccogliere dai catechisti, dai sacerdoti e dagli operatori della pastorale in genere quali sono le esigenze e le richieste per meglio servire come ufficio catechistico la nostra chiesa locale.